Due partite, sei punti. Funzione come la cura di Nicola Legrottaglie. Sul suo conto la società non è ancora uscita allo scoperto, dichiarando in via definitiva che l'allenatore del Pescara è lui. Non è detto neanche che ciò accada, ma la conferma implicita potrebbe avvenire nel momento in cui sarà reso noto il nome del nuovo tecnico della primavera, Pasquale Lillo Catalano, è in vantaggio su Pierluigi Iervese. Di certo Nicola Legrottaglie ora ha tutte le sembianze di un intoccabile e la sua gestione sta regalando soddisfazioni, punti ed emozioni. Due vittorie su due partite, ma con modalità decisamente diverse. A Udine si è visto un Pescara capace di dominare la vicecapolista della Serie B, in una Dacia Arena dove il Pordenone non aveva mai perso. Una prestazione che è quella che ogni tifoso vorrebbe vedere. Pescara sempre in partita, sempre in controllo, aggressivo, propositivo e vincente. La gara ha i limiti della perfezione. Col Cosenza è stata un'altra storia. I biancazzurri sono stati per un'ora in balia di un avversario sulla carta inferiore, nel reduce da un periodo di grande difficoltà. Fino all'espulsione di Sciaudone, l'interrogativo era dove è finita la squadra che aveva entusiasmato a Udine? La partita è cambiata quando le squadre si sono ritrovate 10 contro 10 e nell'ultima mezz'ora il Pescara ha tirato fuori una energia straordinaria, una voglia di vincere che si è manifestata in quei pazzi minuti di recupero. Dopo il rigore fallito da Galano, i biancazzurri hanno cercato la vittoria a costo di subire la beffa finale, vedasi il palo di Asensio appena un minuto prima della rete di Bocic. Cosa è successo nell'ultima mezz'ora? Lo spiega le grottaglie nel post su Instagram. A volte puoi dominare avversari e problemi, altre volte li subisci, ma le partite in campo e fuori si vincono anche così, alzando la testa nelle difficoltà. È così che si diventa grandi. E poi ancora, in un post successivo, quando sei in difficoltà, molla. A tutti può capitare di essere messi sotto da un avversario o da una circostanza. Allora hai due possibilità, molla oppure molla, inteso come effetto. Più sotto vai, più spintai per andare dove non saresti mai arrivato senza, in alto. Parole che dicono tanto, specie ricordando Pescara a Cosenza. Non esiste la ricetta, la formula magica per dominare sempre gli avversari, specie se non hai una caratura decisamente superiore. La bravura di un allenatore e la forza di un gruppo la si misura alla distanza, nella capacità di leggere e massimizzare le situazioni. Il lavoro di le grottarie è incentrato proprio su questo, a crescere l'autostima dei giocatori e aumentare la coesione di gruppo fino ad avere una identità comune. Io sono dell'idea che se tu sai chi sei, sai dove vai. Se non sai chi sei, qualcun altro ti dirà chi sei e qualcun altro ti dirà dove devi andare. Quindi io ho detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo costruire la nostra identità. Noi sappiamo chi siamo. Sono sedute lunghe quelle volute dall'allenatore pugliese. I giocatori scendono in campo anche mezz'ora prima dell'inizio, Torello tra urla e sorrisi e poi due ore piene in campo, tra partitelle, schemi e fasi di scarico. Momenti che il gruppo sta assimilando con grande fervore. Serviranno tante altre controprove, perché la crescita ha bisogno di tempo e del superamento di altre difficoltà, anche quelle dovute ad un mercato che ha indebolito la squadra, ma che d'altro canto sta portando in auge il talento dei millennial Zappa e Bocic. La notizia negativa è lo stiramento occorso a Manuel Pucciarelli, il giocatore arrivato dal Chievo col compito di sostituire Macim. Per lui minimo un mese di stop e la necessità di saltare almeno cinque partite, a cominciare da quella di domenica a Chiavari, dove mancherà anche lo squalificato Palmiero. Toccherà a Castanos. Si candida per una maglia da titolare, Crecco dopo l'ottimo spezzone con il Cosenza, da interno al posto di Melegoni o da quinto al posto di Del Grosso.